Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, ore di paura per i tanti fan di Maravenir in questo video Scopriremo cosa è successo alla nota conduttrice televisiva E prima di sapere di più vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 400 mi piace Ne pubblicherò immediatamente uno nuovo Che cosa è successo a Maravenir perché i fan di tutta Italia sono preoccupati per le sorti della conduttrice di Domenica Inn Perché Maravenir ha postato una foto con una benda sull'occhio Ha condiviso quello che le è successo di recente con la sua vasta schiera di follower su Instagram Mai tranquilla, grazie Professor Cusumano Maravenir ha postato una foto in cui compare in un letto di ospedale E la conduttrice non ha spiegato al momento che cosa sia accaduto citando soltanto il nome dell'oculista che la cura Non è chiaro a quale operazione si sia sottoposta la conduttrice Ma intanto sui social migliaia i commenti qualcuno ipotizzi Si tratti di cataratta ma altri fanno notare che quello è un intervento che si programma E la conduttrice aveva annunciato le sue imminenti vacanze Attendiamo ulteriori notizie Vi ragguaglierò su ciò che è successo esattamente a Maravenir intanto Auguriamo a Zia Mar una pronta ripresa Forza Zia Mar Siamo tutti con te amici di Youtube Io vi ringrazio per l'attenzione Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video Seguitemi anche sul secondo di Marco Liguori Il canale dei video di cronaca Seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori Psicologia e crescita personale Ciao a tutti